Luna Sass sta arrivando per cui prepariamo insieme il nuovo altare. Questo mese come vedete non era così incasinato l'altare e quindi vado a togliere tutto quello che c'era e poi do una pulita. Ormai già sapete, parto con la Florida Water, pulisco fisicamente e poi energeticamente. Ecco, questo tessuto in realtà poi vorrei cambiarlo perché ne ho trovato uno verde che è perfetto. Vedremo se lo cambierò oppure niente e questo è il risultato per ora. Abbiamo i quattro elementi come vedete. Passiamo poi, come al solito, alle offerte. In questo caso abbiamo la bambolina di Luna Sass, trovate un post su IG in cui ve ne parlo. Ho aggiunto dei semini di girasole che ho raccolto al sale e qua stavo facendo un'offerta. Se volete vi faccio un video a parte, è un mini bundle più o meno offerta che ho realizzato. Poi vado ad aggiungere gli strumenti, ovvero i quaderni, poi abbiamo qua i tarocchi, la zona delle offerte, come vedete ancora dovevo fare il bundle, come vi ho già detto i quattro elementi e infine da quest'altra parte i restanti strumenti. Spero vi piaccia, alla prossima!